ecco abbiamo iniziato eva ciao ciao allora raccontami brevissimamente i cinque punti che non hai sotto mano ma anche se vuoi ti suggerisco io allora tu hai già fatto delle sessioni no con altri e hai trovato che ci sono delle vite precedenti tra te e tre insieme tuo padre tuo attuale padre no una in grecia all'epoca del secondo secondo grande non l'ho visto nella regressione diciamo che me ne sono accorta da solo ultimamente negli ultimi cioè guardando le vostre regressioni i vostri video perché nella precedente regressione ho visto il presente diciamo ciò che mi interferiva adesso e non è stato trovato niente di che alla fine qualche mantide per me mia madre ma nient'altro e poi la ragazza che effettua la regressione mi ha detto che mi stavo tipo evolvendo una cosa così ma niente di più le vite precedenti non ha proprio toccate ok qui tu vorresti indagare le vite precedenti in realtà ok come primo punto si ok tuo padre è vivente no è deceduto l'anno scorso è morto secondo punto edl da tu mi hai fatto tanti discorsi sugli edl no è stata una relazione con l'ex che è finita e tu pensi sia stata la rottura sia stata causata da un edl e a un edl perché la madre è devota alla madonna quindi non penso siano gli edl qualcosa di pezzo penso inizia la madre ok però cosa c'entra mia madre la madre del mio ex e lui mi ha lasciato perché è come se l'elie l'avesse tra virgolette imposto anche se non si fanno più ste cose per come se l'avesse fatto quindi per come è finita e dato che lui mi sembrava mentalmente instabile tra virgolette in quel periodo e anch'io per la morte di papà che è successo i giorni dopo la morte di mio padre allora ho pensato che non fosse dovuta solo a lei o alla sua mente ma qualcosa dietro anche se appunto nell'altra regressione non ha visto niente allora ho pensato agli edl perché gli altri non li vedono le poesie e questo anche relativamente alla morte di tuo padre però in realtà noi oggi lavoriamo su di te no eva quindi andiamo a vedere anche perché insomma riuscire a vedere una cosa del genere io lo dicevo perché dopo è cambiato tutto ho fatto cioè ho iniziato una nuova università ho cambiato vita totalmente per questo è dovuto da quel momento poi i messaggi dei numeri del terzo punto io l'ho visto dopo la morte di mio padre non prima i numeri maestri no non solo i numeri maestri sono i numeri doppi si sono i numeri che ripetono doppi tripli quadrupi con anche le sempre le stesse lettere tu mi dicevi sempre a a b b le targhe delle macchine piume cuore accobaleni messaggi in canzoni e film e sogni premonitori vabbè qui ci sono tante cose realtà nel punto 3 sogni premonitori no sogni premonitori ce l'avevo da da quando ero bambina quindi non sono dovuti cioè non sono degli ultimi tempi diciamo così l'ho avuti da sempre però è cambiata la situazione dopo la morte di papà perché non li ho avuti più come prima cioè cambiato la mia un paio di esempi di sogni premonitori quelli più belli quelli c'è quelli più importanti non ero solo della mia vita cioè non so se lo specificato ma visto anche la vita degli altri tipo una cosa bella perché soltanto vedo cose brutte è stato vedere la vita della mia maestra di danza che ho adesso che vedeva uno spettacolo di una sua futura allieva che è una mia compagna di corso e la vedeva ballare con questo vestito da principessa tipo scenerentola quello è uno che mi è rimasto impresso perché non ero né io una ballerina all'epoca né nella conoscevo non lo ce l'ho vista anni adesso anni dopo e l'hai riconosciuta sì mi sono ricordata di questa cosa oppure un'altra volta una mia amica che si chiama non dirlo sia anche no tanto non si è sentito vabbè non la vedo da un bel po in ogni caso la cosa forte è che prima mi accadeva mentre conoscevo le persone cioè le volevo bene e le vedevo però per la mia maestra di danza è successo senza che la conoscessi in ogni caso cioè forse un paio di anni fa più o meno quindi sono anche delle previsioni non solo dei sogni premonitori ma anche previsioni di personaggi che poi in effetti sia quella quell'episodio è successo due anni fa per lei il saggio è successo due anni fa solo che l'ho conosciuto adesso cioè vedo a distanza di pochi giorni a volte o di pochi mesi non solo la mia vita ma anche quella delle persone intorno a me però che sono importanti per me non persone che di cui non me ne frega niente dire ok vabbè tu vuoi vedere la causa esoterica dei numeri maestri di tutto quello che abbiamo detto perfetto punto 4 che un po si collegano a quello che abbiamo appena detto che i pensieri e riti che si riflettono nel fisico riti perché ritiche in che senso ritri riti perché da un annetto a questa parte più o meno non è mezzo avevo iniziato a studiare tipo libri di stregoneria wicca non so se sicuramente l'avete rivisto in altre sessioni antica stregoneria italiana però non praticando solo leggendoli per capire un po la situazione com'era perché una città qua vicino è comunque una città legata alle streghe alla stregoneria in generale a diversi culti diciamo non più praticati che però hanno lasciato molte molte radici qui tracce tracce sì è una città grande questa che hai vicino si può dire no lo posso dire dipende da te insomma di la regione in cui stai poi nel 2000 quando avevi solo tre anni nel 2000 tu avevi tre anni iniziano i problemi fisici allora tu mi citi sempre tuo padre ma in realtà questa è la stessa non è per te io quindi salterai quella parte lì tu dici ferisci tua madre nel 2000 nel 2000 succedono tante cose ferisci tua madre iniziano i tuoi problemi fisici e rompi una bambola temendo che dentro ci fosse un edl sì a tre anni temevi che ci fosse un edl che ci fosse un qualcosa di luce cioè nel senso che ci fosse qualcosa dentro alle bambole di porcellana l'ho sempre guardate con un certo distacco diciamo così però quella mi sono accorto dopo del perché l'avessi rotta cioè nel senso è come se fosse uscito da dentro qualcosa e ma ho detto perché l'hai rotta non riuscivo nemmeno a spiegare la situazione perché nemmeno avrebbe creduto diciamo che era accaduto a lei con la cassapanca tutto il resto nemmeno me lo c'è mi ricordo la scena ma ricordo il perché l'abbia fatto capito che tu hai fatto cadere una cassa panca su su tua mamma no il coperchio il coperchio prendendo delle cose non so l'insuola qualcosa e che l'ho chiusa in testa non lo so tre anni dopo iniziato a urlare cioè ma non non lo so il perché vorrei capirlo perché mi è rimasta impressa pure sta scena siamo i gallei va bene ehi ma i problemi fisici quali sono sempre a tre anni ho avuto la polmonite sono state in ospedale per così mesetto più o meno mattina di giorni e poi dopo scoperto avere la sinusite che mi porta ancora adesso che vabbè quindi mal di testa sempre mucca in gola devo prendere antibiotici un sacco di cose perché solo cioè differenza dell'influenza che prende a stagione questa ce l'ho sempre c'è lo sa chiunque alla sinusite ce l'hai sempre c'è ogni mese ogni poi se non aver poco tempo poi sempre dopo la morte di papà questo fischio all'orecchio fastidiosissimo quando faccio qualcosa di buono mi viene non capisco perché e mi stavo per operare all'appendice poi sono riuscito a non farla superazione però questi disturbi all'intestino da vario tempo diciamo così basta si è tornato anche adesso perché si era levato è tornato di nuovo adesso in questo momento adesso in questo periodo in questo periodo ok e quindi questo è il quinto va bene va ma allora iniziamo se vuoi ok la luce va bene così come è naturale quindi c'è solo le vedrate dietro non posso un po in realtà non incide molto anche perché sarà appunto come ben sai una un'ipnosi leggera se vuoi taglietti gli occhiali se sei più comoda perché tanto devi chiudere gli occhi appoggiali lì accanto mettiti pure comoda ha una cosa che ti volevo chiedere cioè dopo i libri di secondaria non letti altri tipo uno sull'ipnosi regressiva questo sulle anime gemelle anime vabbè qua dice anime compagne ma secondo la tua esperienza abbiamo incontrato se esistono fiamme gemelle o anime diciamo complementari si possono possono esserci certo sì ok vabbè no scusami devo starmi certo ok ok mettiti comoda con le gambe con le braccia nella tua posizione ideale chiudi gli occhi preparati a questo viaggio niente sgombera la mente pensa soltanto ad ascoltare la mia voce se non ci riesco non pensare di non riuscirci ok hai fatto molte prove hai fatto molte induzioni e mi hai detto che hai visto parecchie cose quindi hai sicuramente una successibilità ipnotica molto spiccata a mio avviso quindi ma forse dipende dal fatto che vedevo nei miei sogni forse non lo so vabbè va bene ora ascolta solo la mia voce tieni gli occhi chiusi non aprirli più fino alla fine ed inizia a rilassare il tuo corpo praticando dei lunghi io ora conterò da 10 a 1 e man mano che conterò tu penserai solo a sentire ad ascoltare la mia voce e a rilassarti 10 a 1 10 a 1 10 a 1 10 a 1 9 a 1 i tuoi piedi sono pesanti ed iniziano a sprofondare nel divano 9 a 1 10 a 1 8. Questa pesantezza sale dai piedi fino alle tue ginocchia, che ora sprofondano pesanti nel divano. Lentamente. 7. I tuoi fianchi. Sono pesanti. Ed ora tutte le tue gambe lentamente iniziano a sprofondare. Pesanti nel divano. Pesanti nel divano. Sempre più in profondità. 5. Il ventre e il petto sono pesanti. Sprofondano lentamente. Sprofondano lentamente iniziano a sprofondare. Sprofondano lentamente iniziano a sprofondare. La schiena è pesante e sprofonda anch'essa nel divano. Sprofondano lentamente. Precio a sprofondare. Precio a sprofondare. Tre, lentamente. Le spalle, le braccia, i gomiti, le mani sprofondano lentamente. Le spalle, le braccia, i gomiti. Due, il collo e la testa pesanti. Uno. Pesante. 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 Come va? Pesante. 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 Puoi farlo, eh? Ok. Puoi aprirli, puoi chiuderli. Magari guarda soltanto di fronte a te, se vuoi. Pesante. Pesante. Conto adesso, ancora da 5 a 1. Pesante. Conto e basta. 5. Intanto torni a rilassarti, tenendo gli occhi chiusi o aperti come meglio credi. Quattro, tre, due, uno. Ora Eva conto da uno. A tre. E quando dirò tre, tu andrai a un ricordo, a un sogno, o a una questione per te, per il tuo inconscio, molto importante. Uno. Due. Tre. Dimmi dove ti trovi. Mi sento più breve tutta quanta, però non riesco a vedere. Che cosa vibra del tuo corpo? Quali parti? Le mani, le gambe. È un po' tutto, effettivamente. Ok. Sì, le gambe è il busto un po'. Va bene Eva, vai a uno di quei sogni premonitori che mi hai raccontato. Per esempio, quello della tua amica a lezione di danza. Vai lì, serenamente. E permetti all'occhio della tua mente di guardare la situazione. Che cosa vedi? Ad occhi aperti, perché occhi chiusi non ci riesco, non so perché. Lei, che cammina. Sta camminando... La tua amica. Sì, la mia maestra, non la mia amica. Perché è lei che ho visto. Che è un po' agitata, non so perché. Cammina verso... Tipo un corridoio, non lo so. Però... Sia nel sogno che adesso. Cioè, lei non è che cammina verso qualcosa. Poi si ritrova direttamente davanti a... A questa... Allieva, diciamo. Mentre danza. E cosa succede? Come senti emozionalmente la scena? Dall'esterno. Cioè, emozione è nulla. Questo incontro tra la tua maestra, la tua insegnante e la tua amica o futura amica, non ti suscita nessuna emozione. Sei preoccupata, sei felice, sei indifferente. Anche questa, diciamo, che non può essere considerata un'emozione. L'indifferenza. No, l'escruto. Non è che... Cioè, no. Non le... Le guardo dall'esterno come se fossi un po' più in alto. Sulla destra e in alto rispetto a loro. E le guardo... Una mentre balla, un'altra mentre osserva, mentre guarda la scena. Benissimo. Come se fossi la terza persona, come devo dire. Rispetto a tutte le altre intorno che guardano il balletto, pure loro. Ok, adesso, Eva, blocca la scena, nel momento in cui queste due donne si incontrano. E bloccala ed esci dalla scena. Cioè, guarda dall'esterno le due donne e te che guardi, come terza persona, la scena. Come se fosse un set cinematografico bloccato nel tempo. Quindi, cambia inquadratura. Cambia inquadratura, bravissima. Guarda da un angolo del soffitto. Mi vedo come, non so, come delle ali. Hai delle ali? Sì, se avessi delle piccole, cioè piccole, diciamo piccole ali bianche. Muovi la camera, vai dietro la tua schiena, vai a vedere bene queste ali, come sono fatte. Sono tue o c'era dietro qualcuno, per esempio? Sono mie. Sono tue. Cioè, penso siano attaccate a me. Allora adesso, Eva, dia queste ali di staccarsi da te e di prendere la loro forma. Però sono tipo macchine, nel senso che hanno un'attaccatura che sembra di ferro. Bene. Quindi... Ali meccaniche. Come le stacco, sì. Attaccate alla schiena, tipo alle vertebre. Allora, fai una cosa. Chiama, chiama il qualcuno che le ha messe e digli di staccarle. Prima di tutto mi dici chi arriva e poi gli dici, dai il comando, di staccarle dalle tue vertebre, dalla tua colonna vertebrale. Una persona? Tipo, sembra una persona. Può essere Olaf, non lo so, perché negli ultimi giorni è come se mi fosse tornato sempre questo nome in testa, anche la sera quando avevo disturbi tipo a guidare, agli occhi. Come se lo dovessi allontanare. Dimmi come lo vedi. Con una testa umana, cioè con un corpo di una persona. È un uomo quindi? Sì, però che non conosco, c'è capelli grigi, così, occhi. Normale, sembra, sembra normale, tra virgolette. In tutto questo sto tremando ancora di più, vabbè. Che emozione stai provando mentre tremi? Forse paura. Ok. Allora, concentriamoci sulle tue emozioni. Ok. Tu hai un corpo emozionale che è fatto solo di emozioni. Ogni emozione ha un colore, ha una forma, quella che vuoi tu, e ha soprattutto una frequenza. Le alte frequenze sono emozioni belle, positive, la gioia, la serenità, la fiducia in se stessi, l'ottimismo, e così via. Le basse frequenze sono la paura, il timore, la paura che succeda qualcosa di brutto, la rabbia, la scarsa fiducia in se stessi. Sì. Concentriamoci su quelle a bassa frequenza, su queste ultime che ti ho nominato, dove le vedi? Nelle gambe, diciamo dal bacino in giù, ma proprio fino ai piedi, cioè no, piedi forse non tanto, più nelle gambe, nelle mani un po', nel busto, un sacco qua. Che cosa? Paura, sempre? Sì, perché la rabbia l'avevo eliminata qualche giorno fa, quindi mi è rimasta la paura. Ricercala la rabbia, magari ci sono dei residui. Dimmi dove trovi queste emozioni e come le vedi, se hanno un colore, una forma, una consistenza? Bianco? Sempre sulle gambe. Forse qui, tipo gialla, non lo so, un colore un po' più scuro, marrone, sì, marrone scuro e giallo. Sul braccio sinistro e destro. Sì. Non è stato solo giallo, qua è più pesante. Il giallo è la rabbia? Penso di sì. Il bianco è la paura? Penso di sì. Verificalo, no, no. Ok, aspetta. Capito così. Il marrone non lo so, forse è il terrore. Sì, il bianco è la paura. Di non riuscire, credo. Il giallo sì, qualche residuo di rabbia che avevo. Va bene, prendi adesso con le tue mani energetiche. Ok. Tutte queste sostanze colorate, rabbia, paura, scarsa fiducia in te stessa. Anche? Terrore. Tristezza, se c'è. Ma sì? Le tue mani energetiche, guardalo, visualizzalo, sul corpo, dalla testa ai piedi, che più passate tolgono tutte queste emozioni negative e fanno una palla. Di energia, tipo? No. Sì. Ok. Con tutte le emozioni? Sì. Con tutti i colori, diciamo? Sì. Come se fossero tipo melma? Sì. Come se l'eliminassi. Ongo, melma, sì, come vuoi. Una palla di fango, tutta colorata, con tutte queste emozioni negative, ovviamente. Vai bene a considerare ogni regione del tuo corpo, senza fretta. Togli tutti i residui e attaccali alla palla, che è lì, di fronte a te. In alto a sinistra, penso sia più lì, comunque. Bene. Ok, il terrore l'ho eliminato, almeno. Riuscire a stare pezzo. Qualcosa sulla spalla destra? Vai a vedere cos'è. Ancora terrore, credo. Sembra marrone scuro. Quasi nero. Questo lo lasci? No, no, certo. Toglio. Dimmi quando hai tolto tutto. Resta la paura, aspetta. È, come direva, tutto nelle tue mani. Se tu vuoi toglierla, è un attimo. Se non riesci a toglierla è perché non lo vuoi. Ok. La voglio eliminare, come? Usa una. Ce l'ho nel sinocchio. Aspetta. Usa le tue mani energetiche. Vai lì, la prendi e la metti in quella palla. Anzi, facciamo una cosa. Apri un portale dietro la palla, più grande del diametro della palla, e butta la palla così com'è. Ma ha un portale verso dove? Verso all'esterno, verso l'infinito, che dà nell'infinito. Ok. Buttali la palla e chiudi il portale. Fatto. Ok. Ora rifacciamo tutto. Questa volta dobbiamo cercare soltanto una quantità minore di energia a bassa frequenza. Dei residui. Induzioni di residui. Benissimo. Dei residui, perfetto. Ottimo. Cerca, le utilizza tu il metodo più veloce per te. Sto scansionando. Forse faccio prima. Ancora qualcosa nelle spalle? Per quanto è nelle gambe. E nelle orecchie, non so perché, ancora questa specie di... Toglilo. Fischio. La cuffia. Bene. Questo lo vedremo adesso fra poco. Tu toglilo. E rifai un'altra palla, un'altra pallina. Potrebbe essere qualcosa tipo... Al timpano, qualcosa tipo di impianto, non lo so, tipo marrone, però... Tranquilla, tranquilla. Gli impianti li vediamo tra poco. Ok. Tu togli solo le emozioni, come la paura e il terrore. Ok. Quei residui che restano. Hai fatto già una palla, una pallina? Sì. È tutto? No. Aspetta. Guardati da fuori. Guarda il tuo corpo, sintonizzando la tua, diciamo, vista, su le emozioni. Le frequenze delle emozioni. Cuore. Ma è normale che... Cioè, vabbè. Dimmi. È normale che è come se crescesse sempre di più sulle gambe. A parte del resto del corpo qua, no. Però è come se la vedessi sempre la paura. Non la riesco a eliminare. Sempre in mano. Non l'hai raccolta perfettamente. Ok. Tu raccogliela dal profondo, dal dentro al fuori, dal dietro al davanti e dal davanti al dietro. Non si può riformare se la elimini davvero. Oppure puoi raccoglierla e invece di eliminarla questa, puoi trasformarla, aumentandone la frequenza a livelli più alti possibili e trasformando quella paura in gioia. Quel terrore in euforia. Quella rabbia, se c'è, in serenità. Utilizzando cioè quell'energia, cambiandone la polarità, cioè alzandone la frequenza e riutilizzandola, visto che è tua, a tuo beneficio. Va bene. Ok. Dimmi, primo numero che ti viene in mente a questa domanda. Quanto vibra adesso il tuo corpo emozionale? Tre milioni, è possibile? Sì. Ottimo. Ok. E ti faccio quest'altra domanda. A quanto sta in percentuale la consapevolezza della tua parte subliminale? Trenta per cento. Ottimo. Quanto? Per estra... Scusa. Dimmi, dimmi. Dimmi. Trenta milioni come vibrazione, però quel percentuale mi arriva al trenta per cento. Sì, il trenta per cento, sì. Tre milioni mi hai detto, non trenta. Trenta. Trenta milioni? Ah, sì. Non tre milioni. È salita, credo. Ok, tu mi hai detto, trenta per cento e tre milioni. No, sì, però mi è arrivato dopo come se volessi arrivare al trecento per cento, dal trenta, cioè, quasi impossibile. Ok, sì, sì, no, no, certo che è possibile, si può andare oltre il cento per cento. Va bene, questo è il tuo obiettivo come PS, come procettuale della PS, ma la tua vibrazione è quanto sta, a tre o a trenta milioni? A forse tre. Tre. Tre milioni. Perfetto. È soltanto una convenzione, diciamo che poi vedremo a fine sessione se questi dati, se questi valori saranno cambiati. Ok, chiama adesso senza più paura, senza più rabbia, senza più basse frequenze, questo personaggio, chiamalo come vuoi, se vuoi chiamarlo Olafam, chiamalo Olafam, ma non ti far influenzare dal suo nome. Digli di mettersi di fronte a te e dimmi semplicemente come lo vedi. Due occhi. C'è una persona al lato, però come vedessi degli occhi verdi, azzurri, non lo so, davanti a me, senza volto, solo gli occhi, come se mi scrutassero, mi guardassero. C'è solo lui o ha anche una persona accanto a sé? C'è una persona accanto, che potrebbe essere Olafam. Più gli occhi alla sua destra, più in alto. Più un paio di occhi. Sì, che mi guardano. Com'è la pupilla di questi occhi? Bianca. La pupilla? Scusa, no. L'esterno bianco, l'interno azzurro, azzurro verdolino, tipo. Ok, la pupilla è come quella degli uomini, quindi? Sì, uno azzurro, uno più verde, un occhio più... Sì, come gli uomini, con le ciglia. Ok. Olafam si chiama Olafam, chiediglielo. Non parla. Deve risponderti. Si sta raggomitolando. No, no, fermalo. Fermalo, digli... Fermo al tempo, digli che se sta interferendo con te e lo sta facendo, è obbligato, perché tu glielo ordini, a risponderti. Olafam, sembra essere il suo nome, sembra. Non so se sia vero, però... E l'essere con i due occhi azzurro, uno azzurro e uno verde, come si chiama? Aspetta, provo a chiederlo se mi risponde. Ah no, è ordinaio, ordinaio di dirti il suo nome. Non me lo dice. È comparso una bocca, però, come se non sentissi quello che dice. Va bene, l'uomo degli occhi, lo chiamiamo. Ha un naso, una bocca, come se fosse una pelle verde, però senza volto, è solo come se fosse una struttura, una... E va a chiedi adesso a questi due? Fai la domanda ad entrambi. Chi ti ha messo con le ali meccaniche? La base è meccanica, il resto no. Come se fosse... Le ali, chi te le ha messe? Sì, le ali, ok, aspetta. Penso l'ominide, che è la specie di umano. Ok, chiamiamolo l'ominide, va bene. L'ominide è il capo di Olafam o Olafam è il capo dell'ominide? Non lo so, è una vecchietta adesso. Chi, Olafam? Sì. Si chiama O? Può essere O, sì, stavo per dirlo, però c'è questa vecchietta e dietro... Aspetta, allora ci sono gli occhi a sinistra, con la bocca che non capisco che dice, questa vecchietta, col bastoncino, col bastone in mano, un vestito un po' di strazzi, sembra, non lo so, marrone. E dietro è una specie di... non lo so cos'è, mezzo invisibile, non lo so, tipo quell'uomo di prima però... non si capisce. Non riesco a capire, come se fosse qualcosa di invisibile, però è strano, perché fino a poco fa lo vedevo. Cosa sarebbe invisibile, spiegami? Come se cambiasse forma, struttura, come se la vecchietta rimane lì, più piccolina, come se fosse una statua, non lo so. Va bene. Comunque ci sono queste ali meccaniche. Ok, sì. Ok. Andiamo... Vorremmo averli messi lei. Andiamo adesso, Eva. Va bene, cambiamo pagina. Comunque c'è O, che probabilmente è più corretta rispetto ad Olafam, e l'Umenide. È una statuetta, ferma. Sì. Ha una caratteristica questa vecchietta, non so, un vestito, un bastone... Sì, allora sì, stavo dicendo, ha un bastone, ha come un cappuccio, tipo i mantelli, è presente i mantelli degli abiti che si fanno adesso tipo di carnevale, non lo so. Più che un medievale sembra di carnevale, nel senso che è marrone, tutto il suo vestiario, ha un sacco di pieghe, come una gonna, piena di pieghe. E però si rigidisce, come se diventasse di marmo. Va bene. E, boh, basta. Perfetto, ottimo, grandioso. Giriamo per un attimo pagina, torneremo sicuramente, non ne abbandoniamo certo né O né l'Umenide, chiamiamolo così. Andiamo alla causa esoterica del fatto che vedi i numeri maestri. Quindi, o la lascio lì? La lascio lì, sì. Che la vedo, che la vedo, non fa niente. Sì, sì, non se ne deve andare da nessuna parte, perché sta interferendo con te, quindi avrà delle cose da dirci fra poco. Quindi è normale che ci sia una specie di portale a lato, a sinistra? Di chi? Una specie di buco nero, non lo so, sembra. Ma a sinistra tua o della vecchia? Della vecchia, forse ce l'ho messo io, forse per questo che si è rigidita, non lo so. Va bene, io la lascio lì come minaccia. Tu, in realtà, sei padrona di tutte le scene, quindi puoi tornare esattamente nello stesso istante in cui ti trovi adesso, fra un po' di tempo. Ed è quello che facciamo. Ferma la scena lì com'è, lì così com'è, e vai semplicemente alla causa esoterica del fatto che hai iniziato un po' di tempo fa a vedere numeri maestri. Se provo a spostarsi glielo impedisco, giusto? Lei? Ok, perché il tempo è fermato, lei non può fare nulla. Ok, sì. Bene. Vai alla causa esoterica del tuo vedere i numeri maestri. Eh. Vedo i numeri, 11, 22, 33. Però... La causa esoterica. Chi o cosa te li fa vedere? Dietro i numeri. Cosa c'è dietro davvero? Sì. I numeri. Sì, scrivo quello che vedo però. Cioè, sì, sì. Allora, due braccia. Allora, io vedo la scena davanti, però è come se vedessi me, con due braccia. Me c'è più grande, come se avessi, non so, una testa enorme, un corpo indefinito. Queste braccia enormi che abbracciano tutti i numeri, al mio interno. Ok, sei tu, davvero? Verificalo, toccala, questa Eva. È tipo luce. Sono tipo braccia fatte bianche di luce. Mani luminose. Tocca Eva, con le tue mani energetiche te stessa adesso, non quella Eva lì. E riconosciti dal DNA eterico. Cioè, il mio? Il tuo, sì. Una volta che ne hai verificata l'entità o già sensazione, tocca questa Eva grande di luce e dimmi se senti lo stesso DNA eterico, se ti risuona nello stesso modo. Mi arriva tipo umanoide, cioè umano e umanoide. Perfetto. Non so in che percentuale. Dio a queste braccia di luce di staccarsi dai numeri e di prendere la loro reale forma. Perché non sei tu quella. Subito. Ok, aspetta, si scompongono. Però sono tipo... I numeri hanno cambiato colore. Tipo prima erano tutti colorati, azzurri, rossi, gialli. Bianchi. Ora sono marroni, scuro. Come se... Certo, lo spettacolo è stato scoperto. Come direi, il trucco è stato scoperto. Come si presenta questo qualcuno che faceva le braccia luminose? Vedo tipo steli. Però non è la vera forma. Vabbè, è strano. Tipo paletti, steli, paletti che sembrano di legno, al posto di queste braccia. Cioè, tolta tutta la luce bianca, non c'è più niente. Tutto marrone, scuro. Cioè, come una stazionata. Dico paletti perché sembra una stazionata con al centro... Quindi le linee verticali così. Poi questa linea che separa e che unisce tutte le altre stazionate. E la base di queste cose di legno arriva dove erano i numeri prima. E dove adesso ci sono tipo degli steli come di piante secche. Ok. Torniamo un attimo indietro, Reva. Vai a queste braccia. E D, ordina semplicemente a queste braccia di prendere la loro forma definitiva. Quella traducibile dal loro DNA eterico che hanno per forza. Cioè, umanoide. Ok. Un umanoide, uno solo? Tanti, credo. Ok. È come se ogni... Tutti questi umanoidi dipendono da chi? Chi hanno come capo? Prendono gli ordini da qualcuno? Però aspetta, allora. Le braccia si sono gli umanoidi. È come se le stazionate stesse col filamento, come se fosse un singolo. Eh no, un singolo umanoide. Ogni stecca. Ok. Ogni... Paletto verticale. Eh sì, però c'è quello orizzontale che non capisco che cos'è. Ma non è importante. Ok. Diciamo che questa stazionata rappresenta un gruppo di interferenti. Il problema non è tanto un gruppo di interferenti quanto il capo, il mandante. E la pianura sotto, ok. Che c'è dietro la stazionata, diciamo. Quello, il capo? La pianura? No, la pianura erano i numeri. Ah, ok. Cioè, erano sotto... La pianura è come se fosse la vera... La vera forma dei numeri. Ok. Io vedevo i numeri, però erano come un ologramma. Sotto c'è questa pianura... Non so se è infinita. Marrone, con questi piccoli steli come se fossero spine. Però non sono spine, come alba secca, dicevo prima. Ma nel senso che hanno come... Sono legati a quelle stazionate di legno. Come se fosse... Che provenissero da... Da loro. Da... Boh. Devo dire che c'è dietro. C'è tipo una pallina. Chiama Eva, il responsabile di questo inganno, di questi numeri maestri scambiati per qualcosa di importante. Aspetta, c'è tipo una sfera nera dietro alla stazionata. È tipo una stazionata con un mezzo quadrato senza la parte di dietro. Come se lì dietro andasse... Non so se c'è lo spazio, tipo... Però dentro c'è la parte verso la stazionata che è nera, la parte verso l'infinito che è rossa. Però è rossa tipo gelatina. Non so se... Cioè, gelatino ha il senso di colore. E dentro c'è... C'è qualcosa. C'è tipo una sfera più piccola, tipo dorata. Non so cosa sia. Come si chiama questa sfera? Sono tipo io. Cioè, nel senso... Forse la parte dorata all'interno è mia. E forse... Dico forse perché non ne sono certa. Ma è come se avessero una parte... L'hanno tipo annerita, oscurata. Può essere la mia pièce, non lo so. Perché ce l'ha stazionata intorno. Su tre lati. Il quarto lato però va all'infinito, va allo spazio. Quindi è... Ed è rossa. Ed è... È tipo una via. Una strada. Verso qualcosa. E l'altra invece è una strada chiusa. Che porta alla pianura, appunto. Ok. Prendi tutta questa stazionata. Mettila in compagnia della vecchia, o... E dell'ominide con gli occhi azzurro e verdi. Compresa la pianura e tutto quello che non è mio. Solo la stazionata e tutto quello che non è tuo. Sì. I numeri sono tuoi, dice Vatto. Sono un po' di tutti. Sono degli archetipi. Eh, ok. Quindi il resto. Sì. Levo tutta quella roba nera. Che potrebbero essere mie emozioni negative della sfera, credo. Però la stazionata non è mia. Quindi la metto... E mettila insieme alla vecchia. In quel posto dove c'era già un portale che dà in un buco nero aperto. Tutto... E non devo buttarcelo, però. No, 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 no. Ora chiama il responsabile che ti faceva... Ti fa vedere e trovare delle piume. Ok, aspetta. La sfera è come se fosse... Avesse verso l'involio, però spostandola. È senza gelatina. Ha solo la sfera dorata. È una semisfera nera. Tipo vetrificio. Non so se è data o non lo so. È una cosa nera che non viene da me. E la sfera dorata si sposta all'interno come se fosse una roulette. Come se girasse. Come se avesse preso una forma fisica, tra virgolette. Come se si fosse solo edificata. Ok, dov'è questa sfera adesso? Dove l'hai messa? No, è dentro la sfera. Sempre la sta. Non so se ce l'ho messa io, però sta là. Vicino alla vecchietta. Ok, lasciala lì. Adesso dimenticati della sfera. Anche se si muove, vabbè. Io ti faccio una domanda. Concentrati sulla domanda. Chiama la causa esoterica o irresponsabile delle piume che vedevi e che vedi con una certa frequenza. Ma sai che vedo? Cioè, è strano perché è come se fosse collegato al film che ho visto ieri sera. Allora, ho visto Dubbo. E l'elefantino ha gli occhi azzurri estamente come i miei. È come se fossi io. Perché lui ingoiava una piuma bianca all'inizio. Una piuma nera alla fine del film. Quando ingoiava la piuma bianca, è come se mi sentissi che l'ingoiassi io. Mentre vedevo il film. Ora vedo di nuovo l'elefantino con la piuma. Perché è come se fosse la mia parte eterica, tra virgolette. Come se per poter volare, per farla volare, le servisse la piuma. Però poi nel film Dubbo capisce che alla fine la piuma non gli serve. Perché è in sé la facoltà di volare. Diciamo così. Sei un po' influenzata da questo film però in questo momento. Sì, lo so. Che devo fare? Lo elimino. Piume, cuore, arcobaleni e sogni per monitori. Va bene. Cambiamo pagina ancora una volta. Tanto abbiamo un nostro posto in cui andare a mettere le cose, su cui torneremo alla fine. Ed andiamo a uno dei riti o dei pensieri che abbiamo fruttato. Aspetta, è normale che vedo come se l'elefantino avesse perso il controllo e gira intorno? No, metterlo in un portale e via l'elefantino. Che non ti distragga più come pensiero. Poiché ti sta portando un po' fuori strada. E non portare normale? Normale, sì. Via. Hop. E chiudilo. Ok. Ora andiamo a un momento in cui hai creato sul piano fisico, con dei pensieri, qualcosa. E' come se uscisse una figura, dal portale che ho chiuso prima, me l'ho chiuso, lo sono sicura di averlo chiuso, come se esplodesse, cioè nel senso uscisse questa cosa, con due braccia, un volto e un corpo. Però l'ho fermato lì e non so perché, è una cosa che mi fa rivoltare, perché l'ho visto anche gli ultimi giorni, col viso del mio ex ragazzo. Non riesco a eliminarlo perché penso che sia lui. Allora, so che non è lui, cioè nel senso, non lo so se è lui o no, però continuo a vedere questo e ora è come se uscisse fuori. Non lo so, non mi sono spiegata, scusi. Sì, 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 no, ma ho capito. Va bene. Non fa niente. Alla volta che mi hai fatto, va bene. Libera completamente la mente, rifacciamo un nuovo, facciamo un nuovo percorso. Così come prima hai visto il tuo corpo emozionale, adesso guarda il tuo corpo energetico dall'esterno. E io ti faccio semplicemente questa domanda. Eva, vedi dentro di te o nei pressi del tuo corpo energetico degli esseri di luce? Vedo una sfera. Dove? Sempre queste sfere. Dentro, qui. All'ombelico. Sì, proprio qui. Fermo o si muove? Fermo. È come se fosse... Allora. Prendila con le tue mani, ascolta la mia voce, prendila con le tue mani e togiela dal tuo corpo. Mentre lo fai, dimmi se percepisci un DNA eterico di un certo tipo. Cioè se ha una forma? No, un DNA eterico. Cioè se fa parte di te, è una tua emozione o qualsiasi altra cosa, o non fa parte di te, è esterna a te. Allora, c'è sempre quella cosa nera che non è mia. No. Dove? Che è rimasta qui. È come la sfera di prima, solo che questa sfera ha di nuovo quella patina intorno nera, che è rimasta qui. Non so perché. E ora la sfera in mano, però è mia, cioè dovrebbe essere mia, non ci vedo nient'altro. La sfera nera è la sfera di prima, che hai visto prima. No, aspetta, la semisfera intorno è qui, nel senso che era come un involucro nero che la rinchiudeva. Invece la sfera che ho, tra le mie marite, che diciamo, è rossa. Sempre come una gelatina rossa. E ha sempre dentro quella parte, diciamo, ad argento, non lo so, argento vivo, non lo so, sembra tipo una sferetta, tipo metallo. Sembra metallo. Cosa vuoi farne da questa sfera? Non so cos'è. La tieni? Cosa ti ispira? Allora, apri un buco nero e butta la via subito, così non intralcia più il tuo vedere. È negativo, penso sia negativo in ogni caso. Apri un portale, che dai un buco nero e la butti lì dentro, chiudi il portale quando l'hai fatto. Cosa la domanda? Ma il buco nero a che porta? Il buco nero porta a una scomposizione, a una neutralizzazione di ciò che si viene messo lì dentro, che non è altro che energia. L'energia non si può distruggere, si può solo trasformare. In questo caso noi la scomponiamo, è un muro che si scompone in mattoni e con quei mattoni si può costruire tutt'altro. Quindi, come dire, l'entità, la sfera viene scomposta e neutralizzata. Quando hai detto questa cosa, è come se si fosse svegliata sta pallina, è uscita una mano tipo con degli artigli assurdi e l'ho tagliata. No, 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 non tagliarla. Non tagliarla, metti tutto, non è troppo tardi ormai per farsi vivi. Metti la mano con gli artigli e la pallina nel buco nero e chiudilo. Voleva portare con sé la stronza. Non ti preoccupare, tutto via. Prendi anche quella pallina che hai visto all'inizio. Anche quella che è rimasta qua. Benissimo. Che è rimasta una cosa nera. Prendila e via nel buco nero. Però penso che facesse parte di me, cioè nel senso fosse qualcosa che hanno cambiato. Come qualcosa che hanno mutato, che è diventato una crosta. La vuoi tenere? No, no, ma poteva essere il mio corpo che hanno, che forse la rispingeva. Ok, lì vanno tutta la crosta, tutto questo, il mondezzaio, questa roba, la scena. Con serenità, con gioia, è un divertimento, non deve essere un lavoraccio in sostanza. Tutto via. Ma è normale? È come se vedessi la sottopelle, come se vedessi la mia pelle, però all'interno. Come se fosse dentro di me. Stai vedendo il tuo corpo energetico. Ah, ok. Ok, se io ti rifaccio la domanda, cerca se nel tuo corpo energetico si trova, può anche non esserci, è uno o più esseri di luce. Non è detto che ci sia. Allora, non so se sia un essere di luce, però qualcosa qui. Qui all'orecchio scende nella spalla. Ok, è quel qualcosa che ti causava gli acufeni, i fischi nell'orecchio? Probabile. Sì, però parti da qua, io pensavo fosse l'orecchio, l'altro orecchio, invece lo vedo qui. Ok, staccaro da te, questo qualcosa, e dimmi se si tratta semplicemente di un impianto, se ha la forma di un impianto, pallidino. Qualcosa di meccanico, come se fosse, può essere una clavicola tipo meccanica, non lo so, però è strano che fa con l'orecchio. Quindi è un impianto, non è un essere di luce. Ok, ok. Aspetta, però qua c'è tipo un microtipo, qualcosa che sembra un apparecchio uditivo artificiale, sembra qualcosa che non fa parte di... Ok, fai allora adesso, Giocchi, ci sai uno screening di tutti gli apparecchi non tuoi presenti nel tuo corpo, cioè di tutti gli impianti. Ok, aspetta, allora questo sulla spalla, nell'orecchio, però qui è un po' più, più grande di quanto immaginassi. Poi... 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 Collo? Tiroide? Aspetta, forse... Forse è una... una piccola pallina... Ti luce o metallica, non lo so, che c'è qui, voilà. Ok, sì, scendi sul petto adesso, braccio, petto, schiena. Devo fare un lavoro mirato, giusto? Per vedere bene. Ok, qui no. Come se avessi la gamba sinistra, forse è questo che dipende dai miei problemi di equilibrio ultimamente, come se avessi una gamba meccanica fino al piede, come se questa parte della... Come se veramente la tibia fosse... Avesse dei filamenti meccanici. Filamenti meccanici nella tibia, perfetto, un alto impianto. Fino ai piedi, però, fino al piede sinistro. Ok, c'è altro nelle gambe? Qui, forse, nella cossa sinistra, però non è... Non è dell'osso, nell'osso. Va bene, c'è un qualcosa, va bene così, non è necessario farne una descrizione troppo particolareggiata, cioè ti sforzi inutilmente. Ok, no. Guarda bene lo stomaco, l'intestino, le parti genitali, la schiena, il petto. Nella schiena a parte le ali, perché è come se ci fossero ancora quelle alucce lì, nella colonna, quindi... le vertebre. Non so se la seconda o la terza vertebra, tipo, c'è allo nostro sacro. Qualcosino. E forse al cuore, perché non è che ce lo vedo tanto, però qualche anno fa ho avuto qualche problemino al cuore di... di aritmia, compagna bella, quindi forse... C'è un impianto, lì? Ok. Adesso Eva, ascolta bene la mia voce. Nel 99,9% dei casi, gli impianti eterici sono messi da una sola entità. Noi stiamo cercando questa entità capo, non schiavetti, operai, soldatini. Me ne sono scordati due comunque. Me ne sono arrivati due? No, me ne sono scordati due di impianti. Uno qua... Va bene, va bene, ma non importa. Sono tanti, sono tanti, tu sai benissimo quali sono. Chiama adesso il responsabile di tutti questi impianti il capo. quello che ha detto ai sottoposti di metterteli in eterico? Penso la vecchietta, O. Benissimo. Però poi mi è arrivato S. Prima mi è arrivato la fam, poi O, la vecchietta. e dietro la vecchietta S, però è una S gigante, quindi non so se sia S veramente, però ho visto la S. Strano, non lo so. Di che colore è la S? Lo so. Di che colore è la vecchia? O O? Marrone. 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 Con un ologramma accanto, colorato, cioè sembra umano. Sembra. Olafam ha detto? Sembra un ologramma? Un essere umano olografico? Sembra provenire dalla vecchina. Ok. Il che è plausibile perché Olafam, teoricamente per tutti, non dovrebbe esistere più, dovrebbe essere soltanto una proiezione. Eh sì, lo proiettasse ai suoi occhi, alla sua testa. Diciamo che sono programmi, quindi alla fine si possono ricreare in qualunque momento, ma non importa. Va bene. Eva, diamo solo un'occhiata a una delle tue vite precedenti. Scegline tu una, l'occhio della tua mente sa bene quale scegliere, molto liberamente, senza pensare. La prima cosa che ti viene in mente, vai a una tua vita precedente importante. Mi è vero, appena parla, cioè, ho pensato subito a Alessandro, non so perché, è come se... Alessandro II? Ah, Alessandro il Grande, sì. Come se mi vedessi combattere con... Cioè, no, io vedo la scena dall'esterno però, eh. Vedo un ragazzino biondo che... Con gli occhi tipo, non lo so, tipo azzurri, però che combatte con la spada con un altro ragazzino. Che aspetta, non sembra. E il secondo ragazzino chi è? Alessandro il Grande, da bambino? No, non è un ragazzino, aspetta. È tipo... Qualcos'altro. Alla spada anche lui la brandisce. Allora, io all'inizio vedevo questo bambino con una spada di legno che giocava con quest'altro forse tipo allenamento, come se si stessero allenando, no? Un combattimento. Però ho appena iniziato a vedere meglio la scena, è come se questo... Non il bambino biondo, l'altro. Avesse cambiato forma, fosse diventato un mezzo cavallo. Un mezzo cavallo, però non so che cosa è sopra. Un... Come il sagittario, un uomo cavallo. Un centauro. Un centauro. Un centauro. Non è più un bambino. Sì, però non ha il corpo umano sopra. Il bambino, bambino, sei tu? Il bambino biondo? Mh. Non lo so. So solo che quel bambino ha paura di quell'essere che ha di fronte adesso, perché l'ha visto nella sua vera forma. Quando io ti ho detto vai a una vita precedente, tu hai visto questa scena. Sì. Tu sei il centauro, il bambino, o non sei ancora presente nella scena? Penso di essere il bambino, credo. Vai a guardare. Anche se vedo la... Guarda gli occhi del bambino. La scena da un'altra inquadratura. No, sono strani, nel senso che sembrano tipo impiantati, perché... Ora li vedo tipo verdi, all'inizio li vedevo azzurri come se fossero umani, però se vado all'interno del bambino stesso, come se avesse una macchina dentro, come se fosse un macch... come se gli occhi... come se gli occhi... come se fosse una macchina dentro, al bimbo. È come se avesse delle imbrazze meccaniche, come meccaniche. Però di fronte c'è sempre questo mezzo centauro. Va bene. Vai a un momento importante di quella vita del bambino, che sei tu, e del centauro. E dimmi perché ti è venuto Alessandro II. Perché dici secondo? Beh, perché tu mi hai scritto Alessandro II e il Grande. No? E' solo Alessandro il Grande. Ok, è solo Alessandro II. Sì, secondo. Però dovrebbe essere il primo. Cioè, nel senso dovrebbe essere il primo. Sì, ho scritto male. Sì, 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 tranquillo. Ok. Il bambino lo vedo con una vita felice, questo lo posso dire. Però... Il centauro lo vedo. Non so che cos'è. Non mi concentro sul bambino, forse è meglio. Vai a un momento importante della vita del bambino, che è una tua vita passata. E dimmi perché hai parlato di Alessandro il Grande. Quella domanda. Allora... Ma non è che devi rispondere pensando. Devi semplicemente dirmi quello che vedi. Vedere. Vedo il bambino... Allora, vedo tipo... Non so se è un momento, però accanto c'è sempre quell'essere... Quel centauro. che si è fermato è lì. Fermo. Stoppato. Come se fosse di pietra anche questo adesso. Il bambino vede un tramonto. È come se avesse una luce intorno a sé, come se... Però è un momento importante che c'entra questa cosa. Boh. Forse è come se vedesse qualcosa nel cielo. Il bambino. In questo tramonto, in questo cielo giallo-arancione, in questo sole... Come se fosse che arde esse. Vedo più il sole del bambino adesso. Cioè, è come se il bambino fosse fermo. Felice sempre. Le montagne intorno. Quindi, un paesaggio bello. E lui è fissato... Ha questi occhi fissi nel cielo. In questo sole, in questi esseri, queste cose... Che scendono dal cielo, credo. Come se fossero... Cosa scende dal cielo? Come se fossero delle macchine, ma... Come se fosse un giallo squarciato da questi esserini. Come se fossero... Che anno è, Eva? Devo chiederlo al bambino. Dimmi solo cosa ti arriva alla domanda. Che anno è? Che è... 203. Avanti Cristo, credo. Come morirà il bambino? Cioè, diventerà adulto, diventerà... Avrà una vita e avrà anche una morte. Però in quella scena, che mi hai detto la scena più importante, è come se le macchine andassero dal bambino. Cosa fanno queste macchine? Lo rapiscono? Sì. Cioè, non è che lo rapiscono. Gli fanno male. Le... Come se fossero... È presente i bracci meccanici, con degli artigli tipo... Come se l'avesse qui dentro. Forse quella cosa di prima l'avevano messa loro. Come se lo penetrassero, queste cose meccaniche. Ma se... Lui... Come se lui non morisse. Va bene. Perché non penso morisse. In quel momento. Eva, adesso abbiamo fatto prima una pulizia del corpo emozionale. Adesso facciamo una pulizia del corpo mentale. Del tuo corpo mentale. Adesso ti spiego. Tutti i fatti negativi, che non ti piacciono, della tua attuale vita. E tutti i fatti che non ti piacciono, non negativi, che non ti piacciono. Di tutte le tue vite precedenti, quindi presumibilmente anche quelle... I fatti negativi, brutti, che non ti piacciono, della vita di questo bambino. Tu puoi adesso raccoglierli, senza stare a raccoglierne uno a uno. Puoi esprimere questo intento. Tu puoi raccoglierli dal tuo corpo mentale e metterli tutti in un portale. L'esperienza che hai vissuto finora come Eva nella tua vita. E l'esperienza che hai vissuto come bambino e chissà quante altre, in tutte le tue vite precedenti, è salva. Non viene distrutta. L'esperienza è invariata. Quello che varia è il mentale, il ricordo spiacevole. Tutti i ricordi spiacevoli di tutte quelle vite. Quelli puoi eliminarli. Ma elimina il ricordo, quindi la memoria del ricordo o l'emozione? Elimini la memoria, non l'emozione. Perché l'emozione che ti interessa è l'emozione che hai adesso nel tuo corpo emozionale che abbiamo già pulito. Elimini, non lo so, il fatto che questo bambino sia penetrato da dei bracci meccanici, per esempio. Quello è un ricordo che non ti piace e quello lo elimini. Comunque, mentre lo vedo anche adesso, anche se lo sto eliminando, è come se mi arrivasse la parola Matrix, come se fosse che il cielo si squarciasse nel senso come se la cappa che avvolge la tela si squarciasse e andasse dal bambino per tagliarlo. Sembra strano tagliare un bambino, perché? Vabbè. Metti tutti questi pensieri, tutto questo mentale... Per semplificare, il mentale è simile, lo dovresti vedere simile all'emozionale. Cioè, vedi il tuo corpo... Lo metti in una sfera, in pratica. Vedi il tuo corpo con dei pensieri negativi, che sono quelli di tutte le tue vite, però non solo della vita di Eva. E prendi queste energie, che possono avere forme scure, colori scuri, consistenze non piacevoli, come gel, fango e così via. E metti tutto in un portale. Tutto. Senza scegliere questo sì e quello no. Tanto il risultato, il tuo fine, il tuo scopo è quello di stare meglio. Che il bambino sia stato vittima della matrix meccanica, che il bambino abbia avuto problemi di altro tipo, non ci interessa in questo momento. E quell'essere che si entra ora accanto? Che faccia? Perché non soffermarti, non soffermarti sulle singole vite, questo è un lavoro troppo, troppo lungo, comporterebbe decine di sessioni. Butto direttamente tutto nel portale. Tutto nel portale. Ma non solo la vita del bambino, tu ne hai centinaia se non migliaia di altre, quindi la vita del bambino è una delle tante. È la prima che ti è venuta, probabilmente una delle più importanti, magari la prima o una delle prime, visto che mi parli del 203 avanti Cristo. Però ci sono radine temporali diverse, dimensioni diverse, quindi è molto complesso il quadro. Noi dobbiamo semplificarlo in questa sede. Ok, sta diventando una cosa enorme questa cosa. Ma tu hai il potere di gestire qualunque dimensione di problema, anche una cosa enorme. Tu l'hai creato e tu lo puoi gestire. Semplicemente seguendo la mia voce. Lo faccio più piccolo. I miei consigli, esatto. Ok. Riduci il problema alla sostanza. Visualizza. Vedo la melma più piccola. Perfetto. Visualizza le parti del mentale che vuoi eliminare. Melma, spuma, gel, quello che vuoi. La spuma è negativa? No, no, ma alcune persone la vedono con una consistenza specifica ad otto spuma. Perché alcuni parlano di nuvole, di la schiuma dei capelli, no? Ecco quella... No, proprio gel, melma, quella roba tipo... Benissimo. Tipo schifida. Glob. Ecco. Il blob di carnevale. Tutto in un portale. Chiudi il portale quando hai fatto tutto, rapidissimamente. Portale o buco nero? Portale. Portale che dà in un buco nero. Ok. Fatto? Sì. E gli impianti? Adesso passiamo agli impianti. Allora, chiama O, S, Olafam, Lominide, tutte le entità che non abbiamo analizzato e sicuramente ci sono, e quindi tutti i responsabili di questi impianti eterici. E ordina a uno di questi tre, O, S, e ad Olafam, O, Olafam, di toglierti istantaneamente in un colpo solo tutti gli impianti eterici che ti hanno messo. Se ne vuole scappare, però l'ho chiesto a lei, alla vecchina. Ordinare, non chiedere. Ah, ok. Loro sono sotto di te, non sopra. Ti faranno sempre credere il contrario. Ma tu... Sembra più piccolina, infatti. Capito chi comanda. Sempre più... Una peta sempre più dura, come se diventasse una cosa di carbonio, durissima, non vuole essere proprio toccata alla vecchina. Ordina alla vecchina di dire a qualcuno dei suoi sottoposti di toglierti immediatamente tutti gli impianti. E' diventata piccolissima. Piccola proprio. Io adesso conto fino a tre. E al mio tre tutti gli impianti si staccano e cadono sul pavimento. Uno, perché tu lo vuoi. Due, perché tu sei il capo di ogni cosa. Tre. Tutto. Le parti meccaniche delle ali, le ali. Tutto quello che è nella testa, nel collo, nelle spalle, nel petto, nella schiena, nel bacino, nei genitali, nei fianchi, nelle gambe, nelle ginocchia, nelle caviglie, nei piedi. Tutto è caduto per terra. Tutto viene raccolto da O o da un suo sottoposto. E messo in un portale che dà in un buco nero. Il buco nero accanto alla vecchina. Perfetto. Il buco nero accanto. E ora iniziamo a utilizzarlo. Hanno preso tutto con una scopetta, tipo. Perfetto. Ottimo. Ed ora è il momento di liberarsi di O, di S, di Olafam, dell'ominide, di tutte quelle entità che abbiamo messo in quello spazio che tu hai saputo gestire così bene. È normale che dopo aver staccato gli ali meccaniche sono uscite delle ali diverse? Tipo... No. Tipo di farfalla. No? Tipo di farfalla? Può essere di farfalla, sì, può essere. Tra l'altro tu indossi una maglione nero con farfalle bianche. È un caso? L'hai messo a caso o l'hai messo apposta? Istintivamente. Ma l'hai messo apposta? Sai previ di averlo? No, io cercavo qualcosa da mettere giusto pochi minuti prima della sessione e avevo questo sul divano che l'avevo lasciato lì. Perfetto. E... Intuitivamente diciamo. Va bene. Tutto nel portale. E quando hai messo tutto nel portale sei sicura che ci sia tutto? Chiudilo. È una parola, sicuro che ci sia tutto. C'è un sacco di roba. C'è un sacco di roba. Tutta quella che vedi la metti lì dentro e adesso poi ne apriamo un altro e facciamo i residui. Anche quegli occhi... Tutto. Senza nome? Giganti. Gli occhi ed eluminide senza nome, o la fama, esse, o... Sempre un ologramma pure quelli, mi sa. Tutto. Era vecchino. La staccionata, le braccia. Avevo già eliminata. Eh sì. Ok. Ma nel caso ci fosse ancora qualche residuo, io te lo ricordo. Ok. Tipo della pianura, quelle cose marroncite sono ancora lì. Benissimo. Via tutto. È il momento di fare piazza pulita. Fatto? Ah, si resta. Aspetta qualcosa sulla destra. Forse qualcosa di meccanico. Qualunque cosa sia via. Non la voglio più. Non mi interessa, non mi serve a niente. Ologramma via. La vecchina che non vuole andare via. È diventata una cosa piccolissima. Argentata di metallo, ma con una cosa... Aprile un portale sotto... Sotto? I piedi. Sotto la pallina, sotto i piedi. Anche quello danno lo stesso buco nero, o un altro buco nero. E con la tua mano energetica lo metti lì dentro. Quella pallina la metti lì dentro. Non è una pallina, è tipo una cosa meccanica. Una cosa tutta piena di ingranaggi, più questo esserino metallico sopra. Benissimo, mettilo lì dentro. Fatto? Se non vuole essere chiusa. Non vuoi tu. È perché tu non vuoi. È perché tu non vuoi. Ok. Chiudilo. Ah, mio tre l'hai chiuso. Uno, due, tre. Ok. Più o meno. Ok. Tutto quello che è più o meno adesso. Quindi ascoltami bene. Il ricordo di tutte quelle piume che hai visto, che non hanno nessuna importanza. Di quei cuori che hai visto, che non hanno nessuna importanza. Di quegli arcobaleni che hai visto, che non hanno nessuna importanza. Tutti questi ricordi li prendi dal tuo mentale, li metti in un buco nero. Istantaneamente, senza domande, senza ripensamenti. Non ti servono, ti rallentano, ti impediscono di capire e vivere cose più importanti. Allo stesso modo, tutti quei riti che hai letto, relativi alla wicca, che si riflettono nel fisico, probabilmente negativamente, tutte quelle azioni e i ricordi di quelle azioni, anche solo la lettura di un libro è un'azione, anche quelli appesantiscono il tuo mentale. Istantaneamente apri il portale, li metti lì dentro e richiudi il portale. Però ti posso dire una cosa, con i libri l'ho fatto, ma per le piume è come se venissero da me, cioè, come se fossero messaggi della mia PS. Nel senso che io a volte, quando facevo una domanda, la piuma mi rispondeva con un sì o con un no. E può essere la tua PS, in effetti. Infatti, nello stesso punto, tu mi hai parlato di messaggini, film e musiche e canzoni, e quella solitamente è la PS che ti parla. Ma adesso fra poco la interroghiamo brevissimamente, perché abbiamo finito quasi il nostro tempo a disposizione. Ok. Ok. Allora, facciamo un'analisi completa e finale. Come ti vedi adesso? A livello di vibrazione, se prima eri a 3 milioni, adesso quanto stai? Le vedo altissime. Devo dire un numero? Il primo che ti viene, senza pensarci. 3 miliardi, può essere. Va bene. A quanto stai come percentuale di consapevolezza? Quanto sta la tua PS come percentuale di consapevolezza? Prima mi hai detto il 30, adesso quanto stai? 110. Ok. E se io ti chiedessi quante eliche del DNA eterico hai, cosa mi rispondi? 3. Ok. Vuoi lasciarle a 3? Non lo so, lo dovrei aumentare. Cioè, se lo aumento... Dimmi tu. Cambia qualcosa, giusto? Dovrei volermi di più o no? Cioè, non l'ho capita bene questa cosa delle eliche del DNA. Exactamente così, si. Se le volessi aumentare, quindi? Dimmi quanto devo mettere. Tipo a 5. A 5, perfetto. O a 7, non lo so, mi viene 7. Ok. Mi faccio questa domanda, quando avrai 7 eliche eteriche? Tra quanto tempo? Mi viene 9, fra un anno. Ok. 9, tra un anno. Perfetto. Ora, le vite precedenti le abbiamo considerate nel loro complesso. Ti rifaccio questa domanda. Ci sono degli EDL con te, Eva? Penso di sì. Mi viene da dire di sì. Cerca. Ti sto dando una mano io in eterico. Dietro di me, forse. Perché gli EDL sono difficili da individuare e solo le persone che li hanno studiati riescono, con la loro presenza, a favorire la visione anche da parte di altri. Dietro di te? Come se fossero qui o qui. A uno? Tipo, accanto a me. Un paio, credo. Uno a destra, qui forse. Qualcosa di luminoso, qui. Sinistra non lo so, qui. Lo vuoi tenere? Forse sì. No. Perché ti me lo allegra? Mentre ne parli. No, vabbè, non so nemmeno visualizzare. Prima, scherziamo. Adesso lo bisogna. Rido, forse per Cristo. Quanti sono? No, vedo come una cosa luminosa, una nebulosa, qualcosa tipo... Luminosa qui bianca. Ok. Non so se è uno. Non so. Prendila. Tutta la nebulosa, se ne contiene uno o due, non importa. Portale e via, ormai hai imparato. Buconero. Buconero, via. Poi gli EDL non servono proprio niente, quindi buco nero sicuro. Anche residui, volendo? Se li metti un buco nero non ci sono residui di EDL. Lo li metti o non li metti. Forse ne hai messo uno solo e non due. Non la vedo ancora qua. Ok. Prendilo e toglilo. Se provo a prenderla con qualcosa. Con le tue mani energetiche. Ah, ok. Racchiudo tipo in una sfera, non lo so. Perfetto. Perché se ne è come se non scisse. Perché non ha forma, certo. Quindi raccoglilo in una sfera tutto e metti la sfera, raccoglilo o raccogli lì, in una o due sfere, come preferisci, e tutto in un portale. Può essere quando, a volte non mi rileggevo una lettone di angeli, tipo EDL, giusto? Quindi se ora vedo delle cosettine che si... come se sfilassero dalla sferetta e cerco di rimetterle dentro qualche altra sfera, come se fossero loro. Si. Come se fosse una cosa luminosa che mi passa qui. Si muove come un serpentello luminoso. Perfetto. E quello. E' lui. Ah, ok. Lo prendo. Come? Con le mani. Sfila. Tipo un fescialino. In seguito. Anzi, blocca il tempo. Col tempo bloccato e tu lo puoi fare lui no. Non ti puoi sfuggire. E puoi prendere un portale, come se fosse un anello, un laop, come il cerchio infuocato nel circo, no? Dove il domatore lo fa passare attraverso la tigre che quindi ci salta dentro. Tu usi questo portale che tieni in mano con il tempo fermo, fermato, arrestato e passi il portale sopra o sotto l'EDL che quindi scomparirà dietro di esso. In globale. Ok, ha fatto questa cosa con quelli che erano qui. E' rimasto solo quello lì. Che sta tipo per terra. Che è tipo... A piattuto. Eh sì. Qualcosa di più grande forse. Perché è come se non volesse entrarci. Ma io ce lo metto lo stesso. Basta. Via. Dimmi quando è fatto. Dimmi quando è fatto. Ok. Dovrei esserci riuscita. Perfetto. Vedi per caso la tua consapevolezza aumentata dal 110% o sempre più o meno uguale? Non so perché mi vede sto 300 ancora. 300%? Vedo un 300. Perfetto. Sì. Va bene. Per chiudere Eva adesso. Chiama la tua PS e chiedile di lasciarti un messaggio. Qualunque esso sia. Ma... Cioè la chiamo come se dentro di me o fuori da me? Come se... Chiama la tua PS. È semplicemente quello. La tua PS sei tu. Non è che è dentro di te. Ah ok. Sei la tua PS. È la tua parte subliminale. È la tua anima. E che le devo dire? Oggi hai fatto un importante lavoro di pulizia. Hai indossato una maglia. Hai visto delle ali di farfalla dietro la tua schiena. Tutte colorate. Semplicemente io ti faccio una domanda e tu dimmi cosa ti viene come risposta. Qual era il messaggio relativo alle ali di farfalla sulla schiena? La mia capacità di volare? Perfetto. In eterico? Credo. Perché sono tipo blu... O anche nella vita. Direi. Beh, più messaggio di questo direi... Non ce n'è. Non ce n'è. Ok. Come ti senti? Bene, eri pulita credo. Abbastanza. Sei più pulita? Però... Sì. Ho eliminato tutto quello che c'era. Ma davanti alle ali a me, come se... non so... non mi vedessi ancora nella mia vera forma. Come se avessi ancora qualcosa di... di meccanico forse. Dove? Davanti. Ma davanti fuori da te? Sì. Cioè... Allora... Le ali sono mie. Le vertebre e il corpo. Come se avessi... Qualche altra parte... Però... In me ora non la vedo. Se mi visualizzo con le ali, sì, la vedo. È come se la vedessi... Vedessi qualche parte meccanica davanti. E... Questo mi ricorda un altro film, perché era come su una donna meccanica. E ora mi vedo come fossi meccanica. Non può essere un'influenza di questo film, forse. Lo elimino? Elimino, lo so. Non lo so. Sì, sì. Può essere. Ma a mio modesto parere è un... è come Dumbo, insomma. Ti sei fatto un po' influenzare da tanti film. E anzi, dopo lo diremo anche a fine sessione, io ti consiglio di sospendere anche un po' un bombardamento di informazioni di vario tipo. In quanto è chiaro che un film come Dumbo ha messaggi esoterici, atti, non certo a creare un tuo benessere né tuo né quello degli altri. Soprattutto... Ok, mi vedo tipo senza involucro. Mi vedo un po' più eterea, un po' più... Luminosa. Senza macchina, un portale oppure questo. Perfetto. Sei pronta a tornare? Sì. Ok. Sì, più luminosa. Perfetto. E allora ascolta ancora la mia voce. E adesso noi torniamo. Conterò da 1 a 5. E quando dirò 5, tu aprirai definitivamente gli occhi e sarai completamente tornata al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1. Il tuo corpo diventa, piano piano, lentamente, sempre più leggero. Mano a mano che parlo, i tuoi piedi sono sempre più leggeri. 2. Questa leggerezza sale lungo le tue gambe, fianchi, tronco, braccia, collo e testa. E tu inizi a reincorporarti. Inizia a sentirti sempre più presente, nel tempo presente, più leggera, più serena. 3. Sei sempre più leggera. Sei quasi fluttuante sul tuo divano. Sei sempre più serena e adesso anche felice. E una luce radiosa, fortissima, inizia a sprigionarsi dall'interno del tuo corpo fino all'esterno. 4. Questa luce aumenta sempre di più. Tu sei sempre più leggera. La luce illumina, quasi a giorno, tutta la tua stanza. Molto più di quanto lo stiano facendo le due finestre. Sei sempre più leggera. Recuperi tutte le tue forze, le centuplichi e 5. Apri gli occhi lentamente. Ok. Come stai? Bene. Ma è stata meglio. Aspetta. Benissimo, benissimo. Ok. Insomma, come ti senti? Sentiamo. Meglio. Liberata, sì. Come se non avessi contratture, non lo so. Un massaggio. Sì, veramente. Com'è stato l'esperimento, l'esperienza dell'ipnosi? Bella, non me l'immaginavo così. Pensavo fosse più, non so, mi viene da dire introspettiva, nel senso che pensavo fosse più invasiva, nel senso che mi facesse male, non lo so, avevo questa visione. Ti facesse piangere. Ti facesse piangere, ti facesse disperare. Perché in altri video ho visto queste cose. Allora ho pensato, no, non voglio fare così. Però è andata meglio di quanto immaginassi. Ottimo. Ma la consiglieresti a qualcuno l'ipnosi? Sì, ma io già l'avrei consigliata prima di farla, perché già ci vedevo, diciamo, un risveglio, quindi delle cose positive, anche a livello fisico, non solo mentale o emozionale. Già con alcuni video che ho visto, non li ho visti tutti perché ne avete fatti molti, nonostante ciò ho visto un netto miglioramento, ma di giorno in giorno, quasi di ora in ora, per ogni sessione che vedevo, come se mi sentissi meglio, avessi sempre più visione. Questo è vero, vedere le nostre sessioni ha un effetto sicuramente di guarigione in tutti, questo me lo scrivono quasi ogni giorno più persone, quindi non è assolutamente, non mi coglie, diciamo, alla sprovvista. Ma tipo, ti racconto una cosa, qualche giorno fa, che la sessione era sicura e tutta, è come se avessi vissuto un loop temporale, come se avessi rivissuto la stessa cosa un attimo dopo, vedendo il vostro video. Non ricordo su che cos'era il video, forse su, non so se vuoi dire o no, su... Ah, me l'hai scritto, sì. Sì, era particolare. Poi ho incontrato una signora che voleva farsi aiutare da me, ma prima, mentre guardavo il video, ho visto la stessa scena due volte, questa signora col bambino che parlava a telefono. Allora, è una scena normale. Se non fosse che, fosse rivenuta allo stesso modo, stesso punto, stessa espressione del viso, stesse parole che ha detto. Quando? Poco dopo? Sì, forse qualche minuto dopo, per il video. Però, nella mia realtà attorno, ero in un parco, quindi con la natura circostante intorno a me, appena mi sono resa conto di questa cosa, la signora se n'è scappata proprio, se n'è andata, è uscita fuori dalla villa, voglio dire. Va bene, Eva, la pubblichiamo con appunto il viso censurato, come mi dicevi. Certo, sì. Ok. Con la mia vostra. Va bene. Allora, chiudiamo qua la registrazione. Resta ancora solo un attimo in linea e ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.